Oh, momento, 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 momento. Ah, adesso passo... Arrivi a me, se permettete. Volevo ben dire, insomma, io vorrei vedere qualcosa di vecchio, di me, giovane, di me ragazzino, insomma. Guarda com'era giovane. Giovane, insomma, non è il caso, ma di me ragazzino. Proprio questo è quello che abbiamo noi in repertorio. Creature. Qualche cosa di quando eri veramente giovane, vuoi vedere? Sono molto curioso. Ecco, 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 ecco. Oè, milanesi! Chi ti pensa, come va? Eh, assetto. Ehi, facciamoci questa bella posteggia. Però il vecchio professore, è con gerettina, due giorni non avevano... Non ho capito. No, vuole tenere, ecco. Grazie. Mi sento. Sì, due o tre canzoni, caduto paravisa da cantare, su spina va sa musica passione, roba che sull'annabolo sa fa.